Eventi sospesi fino al 30 settembre prossimo e risparmi di bilancio destinati all'aiuto di famiglie e aziende del territorio a seguito dell'emergenza sanitaria. È questa la decisione comunicata nel corso di una videoconferenza stampa dall'amministrazione del Dotto. Erano presenti tutti gli organizzatori delle tre maggiori manifestazioni. Non ci sarà la notte dei tappeti di segatura del Corpus Domini a inizio giugno con la rituale processione. Si lavora per esporre alcune opere nelle chiese del centro da realizzare con le dovute cautere anti-covid. Non si terrà l'amatissimo Palio dei Rioni che proprio quest'anno avrebbe festeggiato la trentesima edizione. I Rioni, che non potranno tornare a riempire lo stadio nelle calde notti di luglio, hanno deciso di restituire alle casse comunali una quota di 3.500 euro dal contributo 2019 per supportare il fondo di sostegno alle famiglie. Salta anche il Festival Gaber, appuntamento di rilievo e di forte richiamo per il centro storico da molti anni, rinviato al 2021. I tre grandi eventi dell'estate camaiorese non si terranno dunque, anche se un piccolo spiraglio tiene ancora viva una speranza di poter organizzare occasioni utili a mantenere un rapporto di continuità con il territorio e il pubblico. Un'ipotesi che chiaramente si aprirà solo se dal governo arriveranno indicazioni in tal senso. L'unica incognita è la Tirena Adriatico, la gara ciclistica che doveva partire dal Lido di Camaiore lo scorso marzo. Ieri Luci ha comunicato le nuove date, ovvero dal 7 al 14 settembre, ma ancora dovrà essere aperto un confronto fra l'amministrazione comunale e la RCS Sport per discutere dell'eventuale organizzazione della Corsa Re Due Mari.